Il bel tenebroso Riccardo Scamarcio, arrivato ieri a bordo di un SUV con vetri scuri, ha già attirato tantissimi fan a Marina di Camerota e in Cilento per riprese del film Il ladro di giorni, che parla del tentativo di un padre di riallacciare i rapporti con il figlio Salvo, che non vede da sette anni. Il viaggio di Scamarcio, che nel film interpreta il figlio, è giunto a Marina di Camerota, dove si fermerà fino a lunedì 24 settembre, 12 giorni in cui la perla del Cilento si trasforma in un set a cielo aperto, come già avvenuto con le riprese della pellicola internazionale di Wonder Woman e come avverrà in futuro, quando a Camerota arriveranno altri casse e altri registi pronti a catturare le meraviglie di questa terra. Questa notte la produzione ha girato all'interno del cimitero di Marina di Camerota, località Lentiscelle. Scamarcio, attore protagonista che comparirà in tutte le scene o quasi, tra un ciac e un altro, si è andato a godere il mare di Camerota con una sigaretta tra le dita. Si è lasciato scattare qualche selfie in compagnia di una modesta folla di curiosi che ha affollato lo spazio antistante e il luogo sacro. Le riprese andranno avanti quindi fino a lunedì 24 settembre, ultimo giorno. Scamarcio sarà di scena presso la stazione di servizio Trivento a Palinuro. Subito dopo, camera car lungo la strada che costeggia le spiagge del Mingardo e della Cara del Cefano, sempre a Marina di Camerota. La produzione, una volta finito il lavoro, si sposterà in Puglia per girare alcune scene a Bari e in altri luoghi limitrofi.